E' a Castenegolo, località Vettore, vicino al supermercato Rossello. A Castenegolo Venerdì si lascia andare questi ricordi amorosi del bel tempo andato, appunto, è Massimo, è il nostro regista. Allora amici, vi presento i nostri ospiti dell'ultima trancia, attesissimi, ma sapete che la gente vi aspetta perché vuole sapere un po' tutte queste curiosità. Fanno addirittura sul meteo dei veri e propri spettacoli, in America non parliamone. Cominciano anche in Italia, per cui anche noi nel nostro piccolo, nel nostro angolo abbiamo un ascolto veramente incredibile di gente che vuole saperne di più. Con noi Nicola Gerzi e Riccardo Paroni per il centro Meteo Lombardo e Meteo Passione. Oh bene, bene mica tanto perché purtroppo ci sono stati negli ultimi giorni dei momenti anche preoccupanti, tragici per la nostra provincia. In particolare, esatto, la settimana scorsa tra venerdì e sabato, nella notte di sabato, c'è stato davvero un temporale intensissimo in alcune zone della bassa bresciana, in particolare Brandico, in cui sono caduti 153 mm di pioggia in pochissime ore, che è un dato davvero eccezionale se teniamo conto che a Ghedi la media mensile per quanto riguarda le precipitazioni per ottobre è 80 mm. A Brandico in poche ore è caduto quasi il doppio della pioggia che dovrebbe cadere in un mese. Infatti le foto di Fabio Marenda che si è recato sul posto sabato mattina testimoniano i disagi, i danni che si sono verificati nella notte a Brandico, con allagamenti, intervento dei vigili del fuoco. Questo evento ha avuto delle caratteristiche che ben poco hanno di autunnale, perché si è trattato di un temporale autorigenerante che è stazionario su Brandico e su queste zone, che quindi ha colpito zone piuttosto limitate scaricando quantità di pioggia eccezionali e alimentandosi quindi di quel calore e quell'umidità che settimana scorsa erano ben presenti sulle nostre zone. Infatti avevamo a che fare con una situazione del tutto fuori dalla norma per quanto riguarda le temperature che erano nettamente superiori alle medie stagionali e questo ha fornito proprio il carburante per il temporale di Brandico, per innescare questo temporale che si è alimentato e ha avuto caratteristiche quindi più estive che autunnali. E adesso nel giro di pochi giorni ci siamo trovati con una situazione completamente diversa, con un afflusso di aria da nord che ha raggiunto le nostre regioni facendo crollare le temperature letteralmente, quindi in un certo senso stavolta è un po' vero quel detto che dice che non ci sono le medie stagioni perché siamo passati quasi dall'estate. Ricordiamo che avevamo 25 gradi a inizio ottobre, che non è assolutamente normale. Infatti adesso siamo... È più normale ora? Diciamo che le anomalie un po' si compensano ma va tenuto presente che venivamo da un periodo caldo che durava da tantissimo tempo, quindi il fatto che avviamo questi giorni con temperature di 5-6 gradi inferiori alla norma non può compensare mesi e mesi con temperature eccezionalmente calde. L'ultimo mese, pensi che è stato con temperature inferiori alla norma, è l'agosto 2006, quindi andiamo indietro di più di tre anni per avere un mese che dall'inizio alla fine ha avuto temperature in media sotto la norma stagionale, quindi questo ci fa capire che appunto l'iscaldamento globale non è un'invenzione di certi scienziati, ma è un dato di fatto. Appunto le temperature di questi giorni non compensano certo il caldo dei mesi precedenti. Adesso per capire se insomma quest'inverno è arrivato oppure no, No, prima andiamo un pochino invece a vedere nell'immediato quello che potrà succedere, vediamo delle immagini molto particolari. Io partirei subito quindi a commentare l'immagine appena scattata dal satellite Meteosat che potete ora visualizzare in diretta. Vediamo, eccola. Intense correnti settentrionali, come ha anticipato Riccardo, stanno investendo la nostra penisola ormai da qualche giorno. Ulteriori impulsi di aria fredda ben visibili sull'Europa centrale si stanno ancora avvicinando all'arco alpino. Un fronte freddo infatti valicherà durante la prossima notte le Alpi. Questo fronte freddo porterà nuovamente a un'ulteriore flessione delle temperature che si porteranno a su valori ancora più bassi rispetto ai già bassi valori registrati in questi giorni. Questa è la situazione prevista al suolo per domani. Come potete notare l'anticiclone della zona è ancora defilata in posizione molto settentrionale per il periodo centrata tra l'Inghilterra e la Scozia e con voglia sul suo bordo orientale intense correnti da nord-nord-est. Sul fianco meridionale delle Alpi si formerà questa notte una depressione. Questa depressione però, di natura orografica, quindi si forma per effetto della scontro, del fronte freddo con l'arco alpino, si dirigerà rapidamente verso le regioni centro-meridionali della nostra penisola e non interesserà almeno a livello di precipitazione in nostre zone. Qualche debole fenomeno di instabilità nella giornata di domani si potrebbe formare lungo i rilievi, ma si tratterà più che altro di nubi senza precipitazione di rilievo. Se ci spostiamo invece alla giornata di domenica possiamo notare come la depressione si è approfondita e si è spostata appunto sulle regioni meridionali portando estese precipitazioni, mentre l'anticiclone dalla Scozia si riporta su posizioni più meridionali, inglobando gradualmente le nostre zone e riportando quindi tempo stabile, anche se con temperature molto sotto alla norma. Passiamo dunque alle nostre previsioni. Spendo due parole però per commentare i dati delle temperature registrate ieri, giovedì 15 ottobre, in città. Come potete notare la minima intorno ai 6 gravi e la massima sui 14, sono valori rispettivamente di 3 e 6 gradi al di sotto della norma del periodo. Se vi ricordate la settimana scorsa commentavo valori con l'anomalia di uguale magnitudine ma con segno opposto, con 6-7 gradi al di sopra della norma. Quindi siamo passati da condizioni estive a condizioni tardo-autunnali, paragonabili a quelle che si registrano normalmente a metà novembre. Passiamo dunque alle nostre previsioni. Domani, sabato 17, avremo una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile, schiarite anche in pianura. Nel pomeriggio sera qualche nuvola in più potrebbe formarsi lungo le prealpi, associata a deboli e isolate fenomeni con qualche fiocco di neve che potrebbe spingersi addirittura intorno agli 800-900 metri, ma si tratterà di fenomeni veramente di poco conto. Nella giornata di domenica le schiarite si faranno sempre più ampie. Da segnalare nella giornata di domani ancora la possibilità della comparsa di quel fenomeno chiamato feno, ovvero il vento secco proveniente dalle alpiche, però questa volta sarà di natura fredda. Infatti, come potete notare, le massime non saranno assolutamente elevate, si fermeranno domani intorno ai 16-18 gradi e si abbasseranno addirittura intorno ai 15-17 nella giornata di domenica. I primi giorni della prossima settimana saranno caratterizzate ancora da tempo stabile e soleggiato e temperature scenderanno ulteriormente vicino allo zero fuori città nelle prime ore del mattino e le massime non supereranno di molto i 12-13 gradi. Non si vedono ancora all'orizzonte le piogge autunnali che dovrebbero essere classiche in questo periodo, forse solo dal dopo alla metà della settimana prossima le perturbazioni atlantiche potrebbero far visita alle nostre zone. Allora, non piove questo fine settimana? Assolutamente. Signore care, possiamo stendere? No, stavo pensando che c'ho la lavatrice piena. A parte il vento. Posso stendere? A parte il vento. E' meglio, perché così... Secco cammello, certo. Allora, abbiamo quanto tempo, tesoro mio? Cinque... Voglia, cinque minuti. Cioè, noi il venerdì abbiamo questo momento in cui ci troviamo e voi ci fate questo gran regalo dandoci le indicazioni. Però ci sono dei siti dove noi possiamo andare. Anche per monitorare un po' durante la settimana il tempo. Esatto, infatti invito tutti a collegarsi al sito del Centro Meteo Lombardo, quindi www.centrometeolombardo.com e anche a una realtà più specificatamente bresciana, quindi che riguarda la nostra città, che è www.meteopassione.com E su questi siti, oltre a noi meteapassionati che seguiamo appunto l'evoluzione del tempo, si può vedere in diretta da molte stazioni meteorologiche di Brescia, provincia e anche di tutta la Lombardia sul Centro Meteo Lombardo, si può vedere appunto le condizioni del tempo, quindi temperatura, umidità, pressione, tenere sotto controllo un po' quello che sta accadendo in questi giorni, quindi con una cartina real time molto utile. Possiamo appunto seguire la situazione, appunto, stiamo vedendo il sito di Meteo Passione. Esatto. Sta lavorando nel frattempo per noi, eccolo qua. E per cui insomma sono delle indicazioni che noi possiamo tenere presente. E l'home page di Meteo Passione, in cui c'è anche un forum di appunto noi appassionati che commentiamo in tempo reale le varie situazioni. Allora, ma questo inverno? Non si può dire assolutamente nulla su questo inverno. Noi ci dobbiamo attrezzare, noi noi doni ci dobbiamo attrezzare. Previsione a lungo termine. Tira fortuna roba in inverno, i maglioni, i cappotti, dobbiamo far prendere aria, ci dovete dare le indicazioni. Aspettiamo ancora un po'. Qualche maglione? Io preferirei non darne, anche perché l'attendibilità di queste indicazioni è scarsa. E potresti avere più fortuna tirando una monetina, che non utilizzandole attualmente almeno, le previsioni stagionali. Va bene, allora aspettiamo ancora un po'. Intanto accontentiamoci e grazie veramente perché ci avete dato nei partiti.